La creatura mitologica che state vedendo in sottofondo è un raro esemplare di PORO CANONE XT22 BENVENUTO IDOLO Ma come ogni creatura mitologica che si rispetti la conoscete già Visto che è il capobranco della tribù comunemente chiamata Twitch Italia I PORO CANONE XT22 BENVENUTO IDOLO Sono famosi per le bestemmie creative Pallon, ma se è un uomo, è porco Ma uomo Una donna, eh? Donna Sono antichea che... Mi sono distratto Si narra che abbia conquistato Twitch Italia a forza di Kerox e 22 Lui a cura dei magliali nella Randa Vez Esempi rampanti sono Andonio Andonio Grabbi Andonio Andonio Grabbi Andonio E il celebre frame Francese Del MOBA Allora, lui è Daniel È francese Sì Di origine francese Ma parla di italiano molto bene Ha un problema Che mi incazza Spesso flamma, no? Perché sono tutti stronzi Diciamo Come... È come bronzo Che uno gioca a Gianna e... Cioè, se voi siete bronzi Ovviamente non siete voi ritardati Il team Uno pensa che il naso vada soffiato via Invece ciò che è dentro il naso Che va soffiato via dal naso Spingendo Come spinge una donna che sta per partorire Questa Questa cosa serve per vincere una partita Prima cosa Skill Seconda cosa Buona attitude Terza cosa Patate Quarta cosa Macerone Questa cosa Guardare la minimappa Sarete così Cosa Non potete perdere